L'aeronautica militare è impegnata nei trasporti umanitari in Mozambico. Giuramento di fedeltà alla Repubblica per 139 marescialli. Formati i nuovi Public Affairs Officer. Ben trovati con le notizie di Videonews. L'importante ruolo delle capacità dell'aeronautica militare nei trasporti in emergenza di uomini e materiali. Pronti a partire già all'indomani dell'emergenza che ha colpito il Mozambico a causa del ciclone tropicale Idai, i velivoli dell'aeronautica militare sono decollati per due missioni di trasporto a bordo, aiuti umanitari e personale della protezione civile. Il primo a partire il 24 marzo è stato un C-130J della 46esima brigata aerea che ha trasferito in Mozambico alcune unità della protezione civile e del gruppo Maxi Emergenze del 118 della regione Piemonte. Il secondo volo avvenuto il 25 marzo ha riguardato un KC-767A del 14esimo stormo che è però decollato alla volta del Mozambico da un altro reparto dell'aeronautica militare, il terzo stormo, dopo aver caricato un posto medico avanzato di secondo livello messo a disposizione sempre dalla regione Piemonte ed un ulteriore team di sanitari e tecnici. Un perfetto connubio di operatività non solo a setti di volo ma anche logistici, quelli messi in campo dal terzo stormo, un reparto di supporto dell'aeronautica militare che grazie alle sue capacità di proiezione e materiali riveste un importante ruolo di facilitatore strategico iniziale. L'intera attività, disposta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, su indicazione del Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, rientra nell'ambito dell'operazione umanitaria che contribuisce all'assistenza delle popolazioni del Mozambico colpite dalle catastrofiche alluvioni. Ancora una volta capacità e mezzi dell'aeronautica militare a supporto del sistema paese ed utilizzati, oltre che per scopi militari, anche al servizio della collettività sia in Italia che all'estero. La Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare ha formato nuovi sottufficiali che presto saranno impiegati nei reparti della Forza Armata. Vediamo il servizio. Allievi del ventunesimo corso normale, lo giurate voi? Lo giuro! Con queste parole, urlate al cielo, gli allievi marescialli del ventunesimo corso normale hanno prestato il loro giuramento di fedeltà alla patria. La cerimonia di giuramento, presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Alberto Rosso, si è svolta giovedì 4 aprile 2019 presso la Scuola Marescialli di Viterbo. Erano presenti il comandante delle scuole dell'Aeronautica Militare e della Terza Regione Aerea, generale di divisione aerea Aurelio Colagrande, le autorità di Viterbo ed i familiari degli allievi, visibilmente emozionati in questo momento così importante per i propri figli, fratelli e fidanzati. Il giuramento rappresenta un impegno solenne nei confronti della patria. Con esso, i giurandi si sono profondamente vincolati, al cospetto del tricolore, a fornire il proprio contributo alla patria, con lealtà, generosità e spirito di servizio, assumendosene responsabilità e doveri. Il ventunesimo corso, incorporato presso la Scuola Viterbese il 24 settembre del 2018, è costituito da 139 allievi. Di questi, 133 frequentano i corsi di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali presso l'Università della Tuscia, mentre i rimanenti sei seguono i corsi di infermieristica presso l'Università La Sapienza, sede di Staccata di Viterbo. L'informazione e la comunicazione istituzionale al centro di un corso per formare i nuovi specialisti della Forza Armata. Vediamo il servizio. Si è concluso oggi, con la cerimonia della consegna degli attestati, il settimo corso per specialista dell'informazione e della comunicazione istituzionale in campo militare aeronautico. Organizzato dall'Ufficio Pubblica Informazione dell'Aeronautica Militare e articolato su due cicli di attività, una in modalità e-learning e una in presenza, il corso ha visto impegnati i frequentatori per quattro settimane. 28 militari, tra ufficiali, sotto-ufficiali e graduati di truppa, hanno appreso e sviluppato le competenze necessarie per operare a livello centrale e periferico come punto di riferimento per gli organi di stampa e la cittadinanza. I frequentatori hanno effettuato simulazioni per la preparazione e il rilascio di interviste, prodotto comunicati stampa, foto, filmati e materiale per i social media e la web tv. Le lezioni e le esercitazioni sono state tenute da docenti militari e civili, esperti del grande panorama dell'informazione e comunicazione. Con queste competenze, i frequentatori hanno acquisito la qualifica Nato di Public Affair Officer per poter operare in contesti internazionali, sia operativi sia esercitativi. Per oggi è tutto, Videonews termina qui. Se volete guardare tutti i nostri servizi, lo potete fare iscrivendovi al nostro canale YouTube. a tutti i nostri servizi,